Amici dello sportello del cittadino, non a caso mi trovo qui dinanzi a Palazzo di Città di Taranto perché voglio parlare di una situazione particolare, dello stato di degrado assoluto in cui giacciono le periferie delle periferie. Mi riferisco all'isola amministrativa del Comune di Taranto. Vi sono delle realtà che ovviamente sono lontane dal Comune di Taranto, vero e proprio, fisicamente, geograficamente ma come competenza amministrativa rientrano nel Comune di Taranto. Parlerò oggi di quelle zone relative a Torre Sgarrata, a Giamaica, zone in cui il degrado regna sovrano. Zone che sono state trasformate, purtroppo, in discariche a cielo aperto. Ecco perché sono qui, perché mi rivolgo al Sindaco, mi rivolgo all'AMAT, mi rivolgo alla Polizia Municipale di Taranto affinché si intervenga in queste zone, ripeto, che sono state trasformate, che sono diventate discariche a cielo aperto. Il Comune deve dare risposte e l'AMIU deve dare risposte. Sono numerosissime, centinaia le segnalazioni. I cittadini sono esasperati. Lì ci sono delle famiglie, 10-15 famiglie, che vivono in quelle zone. Mi riferisco appunto alle immagini, alle zone riprese da queste foto che stanno scorrendo. Parliamo di 10-15 famiglie che vivono qui in zona Torre Sgarrata, Giamaica, e che devono raccogliere l'immondizia di quei maiali, di quei porci, perché così vanno definiti, che vanno a scaricare lì. Allora, questa gente, queste persone che abitano a Giamaica, che abitano a Torre Sgarrata, pagano le tasse per vedersi sommersi dai rifiuti. Eppure stiamo parlando di zone bellissime, di zone baciate dal sole e con un mare incantevole, ma deturpate dall'inciviltà di chi abbandona i rifiuti, ma anche dall'assoluta inefficienza amministrativa. Perché tu, Comune di Taranto, tu, AMIU, dopo che siete stati sollecitati centinaia di volte e non intervenite, avete delle responsabilità enormi, gravissime. Questa è la realtà, questa è la situazione. Per non parlare di tutto l'aspetto meraviglioso costituito dal patrimonio delle dune. Anche qui, queste realtà meravigliose deturpate dall'incuria, sono diventate delle discariche a cielo aperto. Per non parlare poi dei servizi di Fogna, che non esistono, il tratto del tronco Fognario si ferma a un chilometro e mezzo. Cristo si è fermato ad Eboli, ma evidentemente non a Torre Sgarrata e a Giamaica. Abbiamo fatto segnalazioni, segnalazioni su segnalazioni. I cittadini disperati mi hanno chiamato e io sono qui davanti a Palazzo di Città perché Palazzo di Città deve rispondere, perché il cittadino paga le tasse, perché al cittadino si chiede il voto e in cambio cosa state dando? La mondezza, le discariche, l'oblio, la strafottenza amministrativa, perché questa si chiama strafottenza amministrativa, perché non esistono i cittadini di serie A, di serie B, di serie C, qui stiamo parlando di cittadini abbandonati, dei quali forse non si sa neanche l'esistenza e vengono sommersi dai rifiuti. I rifiuti purtroppo vengono scaricati da cittadini provenienti da altre zone che vanno lì tranquillamente e scaricano di tutto. Pare anche che dalle immagini ci siano dei resti di pezzi meccanici, quindi evidentemente c'è qualche meccanico di auto che puntualmente, quando finisce il suo lavoro, tutti i rifiuti, il materiale di risulta lo scarica lì. E idem altro materiale di varia natura, insomma una discarica, perché nei comuni da cui questi sporcazioni provengono c'è ovviamente la raccolta differenziata e allora loro, anziché andare a conferire i rifiuti secondo le norme della raccolta differenziata, che fanno? Scaricano qui a cielo aperto, tanto nessuno li controlla e la fanno franca. E allora, signor Sindaco, intanto va bonificata la zona, senza ombra di dubbio, e periodicamente e sistematicamente si deve andare a bonificare la zona, in primo luogo, ma poi anche devono esserci controlli. Se si è capito molto bene che questa zona è una discarica, e allora mettiamo le pattuglie dei vigili urbani, facciamo un discorso all'unisono con le forze dell'ordine. Il cittadino di Giamaica, di Torre Sgarrata, è cittadino del Comune di Taranto, paga le tasse, profumatamente che cosa ha? La discarica a cielo aperto. Le immagini penso che abbiano parlato da solo, ma forse l'incuria di chi non interviene a bonificare, a fare un'azione di prevenzione, è superiore quanto a inciviltà, rispetto a chi abbandona vergognosamente i rifiuti. Signori, l'isola amministrativa fa parte del Comune di Taranto, lo ripeto, Sindaco, datti una mossa. Grazie a tutti.